Intervenire sulla collina pericolante di Calatabbiano entro la fine 2016 è un tempo improponibile che è stato però stabilito lo scorso 29 luglio dalla regione siciliana con i dirigenti di Palazzo Zanc e di Amam. Il comune di Messina e l'azienda meridionale Acque vogliono contestare questa decisione agli organi competenti dall'assessorato all'ambiente e territorio al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con il responsabile Fabrizio Curcio. Il capo della protezione civile regionale Calogero Foti è stato risucchiato da un vortice di riunioni in questi giorni ieri agli uffici di Viale San Martino oggi a Roma con il suo collega nazionale. È certo che il territorio di Calatabbiano non può sopportare ancora ritardi. Un agglomerato urbano e la condotta di Fiume Freddo insistono in quell'area dissestata con il rischio di mettere a repentaglio una popolazione in termini di vite umane nel Catanese e in termini di disagi sociali facendo mancare l'acqua nella città dello stretto. Se si dovesse ancora spaccare l'acquedotto di Fiume Freddo i messinesi non potranno incrociare le dita in attesa che l'eventuale riparazione avvenga in tempi rapidi. L'assessore ai lavori pubblici Sergio De Cola e il presidente dell'AMAM Leonardo Termini sono intenzionati ad appellarsi a qualunque autorità perché gli interventi su Calatabbiano vengano eseguiti prima della scadenza predisposta dal governo Crocetta. Un bypass costruito in maniera provvisoria per tre mesi in condizioni d'emergenza dopo la prima rottura della condotta scatenando la prima sospensione della rete idrica non ha solidità sufficiente per un anno. A questo prezzo sarà molto difficile ottemperare il cronoprogramma annunciato da Termini prima dell'incendio doloso per i lavori di forza d'agro. Iniziare dopo Ferragosto sembra adesso un'utopia. Le gare d'appalto sia per queste che per le operazioni della messa in sicurezza della collina di Calatabbiano sono state proclamate prima di Ferragosto. Ancora nulla di fatto.